20 anni aveva chiesto alla procura minorile, 20 anni di carcere, la pena inflitta dal giudice, al killer di Giorgio Cutolo, il musicista 24 anni ucciso in piazza Municipio a Napoli, lo scorso 31 agosto. Fin dalle prime battute del processo, quando in apertura è stata rigettata dal tribunale la richiesta di messa alla prova per il 17enne avanzata dai suoi difensori, si era capito che l'esito non sarebbe stato positivo per l'imputato che Reo confesso aveva scelto il rito abbreviato. I giudici hanno accolto indirettamente anche la richiesta della madre di Giovanni Battista, Daniela De Maggio, che prima di entrare in aula insieme al padre del ragazzo ha partecipato a un presidio all'esterno del tribunale organizzato da una cinquantina tra amici e familiari per chiedere pene esemplari per l'imputato. Ha detto mi dispiace perché non si può tornare indietro ma sempre sguardo basso, quando mi ha incrociato lo sguardo lo abbassava, stavamo a un metro di distanza, poteva anche dire signora Daniela vi voglio abbracciare, perdonatemi, perché qua nessuno è assassino come l'assassino lui, ma non c'è stato un momento di pentimento. Ma io non perdono, non me le fate queste domande, perdono Papa, Gesù Cristo perdono, io non perdono chi mi ha ucciso un figlio meraviglioso, mi ha sparato per il gusto di sparare e sapete quando gli ha detto come mai tu sapevi sparare così bene? No perché io a Capodanno poi compravo le pistole e sparavo, è certo perché noi a Capodanno invece sparai i bot come facevo Gio Gio che accattava i track e si utilizzava la pistola. Grazie.